Perché uomini e donne è stato sospeso? La decisione di Maria De Filippi Uomini e donne sospeso oggi 26 marzo su Canale 5, la scelta di Maria De Filippi. Oggi pomeriggio non va in onda lappuntamento con Cancelletto Uomini e donne su Canale 5. . A Mediaset, infatti, in queste ore hanno fatto sapere di aver sospeso l'appuntamento in Daytime con la trasmissione di Maria De Filippi in segno di rispetto nei confronti del conduttore televisivo che ci ha lasciato proprio oggi all'età di 60 anni. . Una notizia di quelle drammatiche, che lasciano interdetti e senza parole e che hanno spinto Maria De Filippi ad interrompere la programmazione del suo dating show per la giornata di oggi. Ecco perché hanno sospeso Uomini e donne oggi. . Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che a pochi minuti dalla messa in onda della nuova puntata di Uomini e donne Trono Classico, che era stata già registrata, hanno annunciato che la trasmissione non sarebbe andata in onda, sostituita da un nuovo episodio della Sop Una Vita. . Una scelta dovuta da parte di Maria De Filippi che oggi ha voluto rendere omaggio al grande uomo e al grande collega che oggi ci ha lasciato tutti senza parole. . La notizia della morte di Fabrizio Frizzi ha fatto il giro di tutti i telegiornali e di tutti i siti web e testate giornalistiche. Un lutto immenso che ha spinto anche chi lavora a Mediaset a fare delle scelte molto importanti. . La prima a scendere in campo in questo senso è stata proprio Maria De Filippi che ha deciso di sospendere Uomini e donne per la giornata di oggi. . Quando tornerà in onda nuovamente il dating show di Canale 5 in onda nel primo pomeriggio. Maria De Filippi sospende Uomini e donne. . Come si suol dire in questi casi The Show Must Go o nella televisione impone di dover continuare e quindi per questo motivo possiamo svelarvi che la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda domani 27 marzo così come ha confermato anche Raffaella Mennoia su Instagram. . Tuttavia non si esclude che il programma di Maria De Filippi possa essere di nuovo sospeso per la giornata di mercoledì 28 marzo, quando si terranno i funerali di Fabrizio Frizzi a Roma. . In segno di lutto non si esclude che a Mediaset decidano di rivoluzionare di nuovo la programmazione di Canale 5 e quindi di sospendere nuovamente l'appuntamento con Uomini e donne. . Intanto la notizia della cancellazione della puntata del Trono Classico di oggi è stata accolta positivamente dagli spettatori da casa che hanno condiviso la decisione di Maria De Filippi di sospendere l'appuntamento di oggi in segno di grande rispetto per Fabrizio e la sua famiglia. . Ciao Fabrizio, ci mancherai tantissimo!.